ciao oggi voglio fare una traccia per dormire bene perché dormire riposare e avere un sonno profondo ti aiuta nella vita quotidiana ti aiuta anche a ridurre ovviamente lo stress e anche il rapporto con il cibo può cambiare dobbiamo iniziare a sistemare tutte le nostre funzionalità le nostre funzioni di base e il sonno ovviamente è una di quelle e quindi con sempre con il sistema IFT dove ci picchiettiamo dove andiamo a rimuovere tutti gli ostacoli che ci impediscono di fare delle cose tutti gli ostacoli che ci impediscono magari in questo momento di rilassarci e dobbiamo andare a rimuoverli e quindi inizia a picchiettare il punto karate e ti connetti questa traccia la puoi fare ovviamente di sera prima di andare a dormire e inizia a pronunciare insieme a me anche se non riesco a dormire bene perché c'è qualcosa sempre che mi disturba che mi sveglia io mi amo e mi accetto totalmente e profondamente anche se mi sveglio spesso durante la notte sono molto sensibile ai rumori io scelgo ora di iniziare a rilassarmi e accettarmi e stimarmi completamente e profondamente anche se c'è qualcosa che mi impedisce di dormire serenamente perché ci sono dei pensieri che si attivano e mi disturbano mi agitano mi preoccupano e non c'è niente come di notte che mi sento ancora più preoccupata io scelgo di sapere che tutto questo può cambiare e sta già cambiando ora ora passiamo su tutti i punti mantenendo l'attenzione a quello che stai vivendo ovviamente io pronuncerò delle parole che magari non rappresentano quelle che pronunceresti tu quindi ti consiglio di adattarle alla tua situazione questa è solo una traccia di esempio c'è qualcosa che mi disturba durante la notte passiamo qualcosa mi preoccupa c'è sempre qualcosa che mi sveglia devo sempre o spesso andare in bagno c'è qualche pensiero che assilla la mia mente c'è qualcosa che disturba il mio sonno e io so già prima di andare a dormire che tutto questo avverrà perché puntualmente come ogni notte tutto questo avviene sotto il seno il punto del fegato tutto questo succede ogni notte e io vado a dormire già preoccupata procediamo senza fermarci ma io so che tutto questo può cambiare anche se fino adesso è sempre avvenuto così io posso scegliere di rilassarmi ora posso lasciare andare tutte le preoccupazioni della giornata lasciare andare tutte le resistenze tutte le paure che affliggono la mia mente il mio corpo posso sapere che non è preoccupandomi che posso risolvere le cose soprattutto di notte ma probabilmente riuscirò a risolvere le cose rilassandomi di più quindi posso scegliere di rilassarmi scegliere ora di rilassare il mio corpo e la mia mente e voglio entrare nella mia camera già rilassata per affrontare questa nuova notte totalmente diversa da quelle che sono sempre fatto perché mi posso rilassare totalmente posso abbandonare ogni mia paura posso lasciar fuori dalla camera ogni mia paura ogni mia preoccupazione e permettermi di dormire di addormentarmi profondamente rigenerare il mio corpo e fare in modo che di mattina io mi posso risvegliare carica di energia piena di vitalità è riposata per affrontare una nuova giornata e scelgo di farlo da oggi in poi scelgo di programmare la mia mente scelgo di programmare il mio corpo scelgo di sentirmi bene e di riposare di rilassare completamente il mio corpo e permettermi di passare una notte molto riposante fai un respiro profondo e ora puoi proseguire con il tuo ritmo puoi continuare ancora un po' puoi rilasciare eventualmente se c'è una preoccupazione in particolare che ti disturba se c'è qualcosa che sai che normalmente ti disturba durante la notte inseriscila nei giri e concentrati di più su quella più sei specifica più questa tecnica funziona io ti consiglio di iscriverti al mio canale per non perderti tutti gli altri giri che sto programmando e eventualmente scrivimi di che cosa hai bisogno cosa vorresti smantellare nelle tue con le ft cosa vorresti risolvere che man mano procederemo e inserirò anche un giro che va bene anche per te in modo più esclusivo io ti auguro una buona giornata alla prossima ciao